Prima di arrivare a San Pieri di Charnie, non si può fare di manco di visitare l'antico centro romano di Forum Iulium Carnicum, venne a stare di giù, giù, di giù là che partiva un'importante strada per il nord. Che il resto sono restati per un piede qui in due sottiere, e c'è che si vio tanti modi basiliche dai tempi di Stiasis, che sta lì come un documento che non si scancella più. Zui, a sta sul fronte del chianale, sulle rive ghiestre dal burro. Squasite su spalis, si alza a plon, un'altura di setcent e cinquante metro, e paresore, in via le viste, e gli elaglesi di San Pieri di Charnie, che ha le dute le valade, e che ha, o più in bas, le biele glesiute di madone de salute, anche gli antichi. di sicuro lassù, dal team dei romanzi, ha liere un po' sportificato, che al servire vi vedete, un'esorte di acropoli per Giulio Carnico. E lassù si pensa che se il lade apparassi l'inde val, qualche rome ce n'è più i fuarci, e la sa che venissero indenanti i barbas. A solleanza dei susanzi feudali, anche gli iglesi più importanti avevano diritto di omaggio degli iglesi sottani, così succedeva a Quilei, a Cività e anche in altri paesi. La cerimonia di omaggio, però, ormai, e ventignudo nome a San Pieri di Charnie, ma senza lui più il significato di una volta, perché che come usse il nome a una fiesta di unione e fra delle lance. La cerimonia avevano chiamato il bacio delle croci partagliante, ma i Charniei la chiamano la benedizione della croce. Queste cerimonia si unis anche che le sorogazioni, così la storia, la religione, Le susanzi antiche hanno fatto un gruppo insieme per le fieste del Dio delle Scienze. Per antiche, le sorogazioni si erano inclamabili le croce, e le sorogazioni di Charniei di Charniei di Charniei di Charniei di Charniei di Charniei. La cerimonia di Charniei 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 di Charnie 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 Grazie a tutti. 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 Così, Grazie a tutti. 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 a tutti. Grazie a tutti.